Questo è il rompicapo della bottiglia impossibile. L'obiettivo è quello di andare a togliere il pezzo di legno dalla bottiglia, ovviamente senza andare a romperla o utilizzare un martello. Come vedete però, il pezzo di legno è bloccato da questa vite e da questo pezzo di ferro. E all'interno della bottiglia c'è anche una pallina di legno. La soluzione è la seguente, bisogna far arrivare la pallina di legno in questo punto. E da qui bisogna iniziare a svitare, grazie alla pallina, la vite, in questo modo. Ovviamente per svitarla tutta ci vorrà un bel po' di tempo e un bel po' di dolore alle mani. E così facendo la vite si è svitata e la posso far cadere, posso dividere tutti quanti i pezzettini e sfilare così il pezzo di legno. Questa era la soluzione.